L'Unione Europea ci tira ancora le orecchie. Il Commissario agli affari economici si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni che bocciano la nostra politica economica e soprattutto la nostra capacità di ridurre il debito pubblico. Anzi, per dirla tutta, il Commissario ha espresso seri dubbi sulla possibilità che l'Italia riesca a superare la crisi a causa del debito pubblico che non riesce ad abbattere. Per la verità siamo in buona compagnia. Secondo lo stesso Commissario anche la Francia si troverebbe nelle stesse nostre condizioni. Ogni tanto da Bruxelles ci arriva una mazzata sulla testa. Proprio quando pensiamo di avere cominciato a risolvere i nostri problemi, ecco la doccia fredda. Così non va. Ma cos'altro deve fare l'Italia, a parte quello che fa da sempre, e cioè adeguarsi alle indicazioni che arrivano dall'Unione Europea? Le spending review, le finanziarie, le leggi di stabilità ultime sono state tutte imposte dall'Europa. I tempi economici italiani ce li impone, ce li detta minuto per minuto, passo per passo, l'Europa. E la stessa Europa accoglie, ci controlla e accoglie positivamente quello che il nostro governo decide. Beh adesso un Commissario si sveglia e ci lancia nuove pietre sulla testa. Sarebbe ora di smetterla. In economia non si possono ottenere risultati immediati. È strano che il Commissario finlandese agli affari economici non lo sappia. O forse, e questo è il nostro sospetto, lo sa. Però è già in campagna elettorale e pensa di avere trovato il filone giusto per le sue elezioni, no? Dichiarando guerra all'Italia? Pensate un po', dalla lontana Finlandia, invece di pensare alle regne di Babbo Natale.